Fabiano, ultimo acquisto della Latina Calcio a 5, arrivi qui con molto entusiasmo, la voglia di rimetterti in gioco, come hai detto poco fa in conferenza stampa? Sicuramente, ho tanta voglia, mi sono trovato molto bene qui nella società, vorrei ringraziare a tutti per lo sforzo, il presidente soprattutto, e adesso ho tanta voglia di fare bene con i ragazzi, un buon campionato, speriamo veramente bene. Subito in campo con i ragazzi, la squadra conoscevi già qualche elemento, che squadra hai trovato? Come collochi questa squadra nel campionato italiano che è difficilissimo? Sì, è difficile, è competitivo, ho giocato tanti anni con Baccaro, non nella nazionale, lui mi ha aiutato tanto di stare qui, mi ha dato una mano il presidente, l'allenatore, i ragazzi sono forti, è sempre tutto nuovo, perché la Serie A è diversa, ma sono fiducioso, sono fiero che con il lavoro, con l'unione della squadra possiamo fare un buon campionato. Venerdì subito in campo con una tua ex squadra, ma ne troverai tante in questo campionato, la Lupa-Renze? Sì, non so, dipende dal transfer, vediamo se ci arriva, dall'Azerbaijan, l'ultima federazione che giocavo, e niente, speriamo che ci arrivi e che io possa dare una mano alla squadra. Caratteristiche e condizioni di forma con cui sei arrivato qui a Latina? Io mi stavo allenando in Brasile, devo guadagnare tanto ancora a livello fisico, che secondo me è importantissimo, visto le mie caratteristiche, ma questo si fa col lavoro, sulle mie caratteristiche direi tanta voglia di difendere, coprire gli spazi, aiutare i compagni, anche il tiro, sono le mie principali caratteristiche. Il numero di maglia è una promessa ai tifosi della TIA? Il tre, il tre, mi ha sempre portato fortuna, speriamo bene pure questa volta. Ok, grazie a voi, a voi.